Fere una vecchia signora mi ha dato un oggetto molto strano, ho un po' paura di utilizzarlo Ok, cosa ti ha dato? Questo Lo vedi bene? Sì che lo vedo bene, ne voglio stare alla larga Steph Non mi sembra un bell'oggetto da utilizzare, ti dico la verità Sono un po' spaventato anche io, ma mi ha detto un qualcosa di interessante Fere Ha detto che se io metto due blocchi d'oro, uno sopra l'altro Poi metto questo oggetto qua con le mani E metto una netherrack sopra E accendo la netherrack No, non lo fare Succede qualcosa Ti sei reso conto che in quel blocco c'era disegnata la testa di aerobran L'hai visto bene, cioè sei consapevole Steph, lo vuoi fare davvero? Secondo me dobbiamo provarci Fere No No? Da solo? Allora tu ci provi o vado molto lontano? No, 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 in primis dobbiamo trovare il posto giusto dove farlo Secondo me è importante E qual è il posto giusto secondo te? Non ho idea Fere Come non ho idea? Cioè bisogna, non lo so, quale può essere il posto giusto dove fare una cosa del genere? In un altare ad esempio In un altare? Eh sì, hai della pietra? No Potremmo costruire un mini altare? Andiamo a prendere della pietra e facciamo un mini altare Sì, sì, sì Perché secondo me se proprio deve succedere Non credo succeda nulla, ok? Ma se proprio deve succedere qualcosa Se noi lo evochiamo in una maniera maestosa Magari è riconoscente Ma magari non ci uccide Magari non ci uccide Eh certo, sì, sono d'accordo Non so direttamente perché evocarlo Se poi c'è il rischio che ci uccida Eh, perché sei Steph, finito No, sono curioso Tu non sei curiosa? No, no, assolutamente Ma è figo Io sono dell'idea che certe cose vanno lasciate dove stanno, Steph Capisci? È una buona filosofia di vita Non esisterebbe a tanti film horror se la gente ragiona come te Eh, appunto Lasciali dove stanno i film horror Ok, vai Steph Allora, qua vedo un po' di pietra C'è anche della gravel Tenta a non confonderti Secondo me la gravel non mi piace Ma io non ho neanche un piccone, Steph Non faccio nulla Guardate che lo fai, quindi Ok, vabbè Lavoro sempre io Inizia a scegliere un posto dove andare a farlo però Ok Perché secondo me deve essere bello l'altare Quanto il posto in cui metti l'altare per evocarlo Magari andiamo qui in alto C'è una montagnetta proprio in alto, in alto, in alto Ti sembra abbastanza gradevole? Non lo so Perché è pieno di alberi Quindi un attimino devo controllare Sì, mi sembra il posto giusto, Steph Sei pronta? Qui sopra, qui sopra Sei pronta? No Ma devo mettere un po' di pietra? Sì, fai l'altare Pensaci tu Ecco qua Bene, lo sai che se costruisco io Non solo nasce e ci ammazza Ma ci perseguita per dieci vite e cento mondi di Minecraft Ma qualcosa di molto semplice Non è che dobbiamo stare lì Ma tanto io sbaglio a priori, lo sai A fare le cose strane, Steph Allora, osserviamola dall'alto Lo salgo in questo bel alberello E me la guardo Ok, bene Ok, qui al centro Ok, sicura? Semplice, è una base di pietra Altro che altare Ma secondo me va bene e vale Sì, vai Allora In primis Porca miseria, sarà un po' troppo in alto Questo è il blocco Ok Ok E fa già paura visto così, Steph Lo so Siamo sicuri di voler andare avanti? Io mi godo la scena mangiando un po', Steph Come quando mangi popcorn quando succede qualche mago Allora Mangiandomi una bella pistecca Ok E infine Io sono pronta a scappare Va acceso il tutto Fere Le hai visti gli occhi? Non sai cosa hai fatto Fere Oh mamma mia Mamma mia, Steph Che è? Perché ci sono tutti pezzi strani Io vengo sbalzato in aria Succedono un sacco di cose strane Questi polli sono maledetti, Steph Fere Eh È tutto folle È tutto completamente folle Dimmi che stai sopravvivendo Ci sono degli aerobrine minuscoli Più o meno Sono quasi morti I polli I polli sono incredibili I polli sono maledetti I polli sono incredibili Sono maledetti Sono morta io Che mi dici? Non hai capito Gli ho ammazzato tantissimi Sono responati Oh mio Dio Oh no Ho la brutta voglia Oh Sono arrivati anche i maiali Non ci credo Oddio sono arrivato da te Ma non è stata una buona idea Perché stanno esplodendo i maiali? Perché Pig brine Perché sono dei pig brine No Non sono dei maiali normali Io dove spono? A te ha buttato fuori Sì No Non mi ha fatto più rientrare nel server Cioè mi ha fatto proprio No Tu non entri mai più in questo server maledetto Guardate Guardate Non è possibile Perché l'hai fatto? È rotto tutto È crashato tutto Ma voi non avete Non avete idea Non avete idea di che cosa sta succedendo È infietante Con questa mod Cioè Io sono fermo Sono in creative Mi hanno messo la lava Cioè io non so chi è venuto a mettermi sta lava qua No L'abbiamo dovuto fare per forza Perché è impossibile fronteggiare Continuano ad attaccarti all'infinito Se vai lì davanti Steph è pieno di maiali E aerobran Che esplodono Allora Io voglio spiegare un po' tutto quello che è successo Perché è stato molto caotico Noi siamo partiti Abbiamo fatto partire l'evento Partendo l'evento è arrivato aerobran nel mondo Che ha tipo posseduto gli animali Che hanno iniziato ad attaccarci Sono arrivati i polli Maiali I maiali erano esplosivi Mentre i polli ti attaccavano da vicino Poi c'era un mini aerobran Che tipo ti acchiappa E ti fa tipo la nausea E non capisci più nulla Un aerobran Che ti prende a schiaffi Uno che mette l'ava e fuoco Ma hai notato un'altra cosa Steph Ci sono Voglio capire Perché cavolo hanno costruito Tu No vieni un attimo Vieni Devo farti vedere una cosa molto importante Lascia perdere i villager Assatanati Lo so che sono assatanati Ma hai notato che ci sono delle lettere in glowstone Stai scherzando Tipo qui c'è una O Qui c'è una H Ma che Anche qui c'è una H Cioè sarebbe Aerobran Guarda lì c'è un'altra Ma stai scherzando Che cos'è Quella è una N Una specie di Non lo so Sembra una lettera Forse doveva essere una E Non lo so Sembra che abbia scritto Aerobran in glowstone Mi hanno acchiappato Cioè mi acchiappano anche Sono in creative Sì sì Qua c'è una croce di vetro Qui che Cos'è Una specie di Steff mi stanno venendo i brividi Ti dico la verità Ma sei vicino a me Sì Cioè guarda questa roba Una croce di vetro Una specie di altarino Vedete il menu Aerobran Possono scomparire E ti fanno gli assalti Ma poi vieni qua Cos'è questa specie di casetta In pietra Vieni a vederla Ebbene mi acchiappa Aerobran Ma la smetti Ma lasciami in pace Sono in creative Porca miseria Manco in creative Io sono stata buttata fuori lo stesso Perché ho osato provare a vedere la casetta No Cioè guardate Guardate cosa tutto era arrivato No è il caos più totale Pezzi di zombie Polli che neanche c'hanno più gli occhi Maiali assatanati È un disagio Io te l'ho detto che non lo dovevi fare Non ti dovevi fidare di quella nonnetta È come quando la nonnetta Dalla vecchietta Dalla mela Velenata biancarevele la mangia Ma come puoi fidarti Infatti me ne sono totalmente pentito Come puoi fidarti Lui è l'artefice Fede Guarda Vedi che è l'Aerobran Col piccone Questo qua è l'Aero Ma si ammazza un tra di loro Oh mamma mia E poi da dove è arrivato il pigman E cos'è quello? Fede Che cosa? Non lo so Non so che stai vedendo Fede c'è il creatore di Minecraft Che ammazza Aerobran No Steph No Fede tu stai perdendo Qualcosa di incredibile C'è Aerobran contro il creatore di Minecraft Tipo Ma scherzi C'è Notch Credo sia la skin di Notch questa Guardala È lui no? È la sua skin Sì non lo so Sì Adesso ce ne sono due Fede è partito un combattimento Che manco gli Avengers Ti giuro che stanno No Steph Dimmi Io ho visto una cosa molto strana Nella casetta Crashato Io ho bloccato tutto Abbiamo totalmente cancellato quel mondo Che spero che scompaia dall'esistenza possibile No ormai era rotto Perché altrimenti maledice qualsiasi cosa Totalmente rotto Completamente andato Crashavo ogni 5 secondi Siamo tornati nello stesso mondo Però senza aver avviato l'altare Come se fossimo tornati dietro nel tempo Capisci? Sì per fortuna in un videogioco si può fare Consigli se nella realtà vi capita un blocco Che sembra con gli occhi di aero Non fate Fate nulla Perché poi ci passiamo tutti Almeno in un videogioco Fate la scemenza Resetate Al massimo esplode il computer Va bene così Comunque Prima di andarcene via Per sempre Da tutta questa esperienza Terribile aggiungo Ok Abbiamo tutte le varie uova Degli aerobrine Per poterli diciamo Vedere un pochettino Con più calma Però aspetta Sì Io allora li voglio combattere Va bene Se ci tieni Dammi una spada Steph Sto pronta Ho levato la creativa Sto prontissima Vai Ok Allora Oddio vediamo cosa succederà Allora presenta prima È l'aerobrine villager infected Ok Vai Spero che non ci ricresci tutto Vado Vai Eccolo qua Porca miseria Ho fatto una paura No Steph aiuto Steph aiuto Io non li volevo affrontare È morto? Sì è morto Vado che paura Io non li volevo affrontare Cioè il tempo di guardarlo Mi è saltato addosso Mi ha fatto pigliare un infarto Steph Allora ho capito che servivano Le portion health Splash Blah blah Bli 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 Fatemi vedere dove sono Quindi sono tutte le creature Che sono state evocate Con quell'evento Che abbiamo attivato prima Sì Credo che l'unica cosa Che non vedrai Sono gli animali Meglio Ok Sì Vai Ti va bene Adatto Io te ne voglio mettere due No Se sei concentrati Li colpisci Muogliono subito Li colpisco Prima che corrano Prima che corrano Non me ne frega nulla Poi abbiamo L'aerobrine factor Che non so cosa può avere In più Già di un aerobrine normale Vai Ok Regge bene le botte È abbastanza veloce Da molte botte Steph Da anche molte botte Credo abbia evocato anche quello zombie Perché è impossibile Che sia sponato di giorno Steph Ho notato Non muore Non muore Ti ha umiliato Io avevo la spada in diamante Ti ha umiliato Non muore Adesso sta prendendo gioco Cavoli tuoi Voglio affrontarli Lei l'ha detto Io non li avrei fatti affrontare oggi Li avrei guardati Muori Non muore Ti schiva i colpi Ti schiva Sì Curami L'ho steso Ma poi è stato fortissimo Perché qualche colpo Gliel'ho dato Non è che gli ha presi così bene I colpi Che la spada in diamante Regge Poi c'è Aerobrine normale Che non puoi evocarlo Perché Scompare Dove è finito Steph Me lo devo aspettare alle spalle Che mi fa venire un infarto Per quello alle spalle abbiamo lui Lo stalker Ah quelli piccoli di prima No Steph Questi fanno cose strane Ecco qua Ha rotto di nuovo il mondo Steph Secondo me No Secondo me Finché è uno di lui Lo puoi affrontare Vado a spegnirmi in acqua Ok Allora Ti do una mano io va Facciamo così Ok E altrimenti qua è grave Lui teoricamente È diventato invisibile Ok Ok Quando tu lì sei vicino Lui ti fa un assalto All'improvviso No Mette abbastanza ansia questa cosa Ma chissà dove è mo Infatti il problema è quello Lui ne è mentre però scompare E tu non sai dove se ne è andato Magari è andato a casa Non lo voglio sapere Noi non lo sapremo mai Noi non lo voglio sapere Vai il prossimo Andiamo col prossimo Sì Spero Cioè se ti torna all'improvviso Ti viene infarto Però Aerobrine normale In un'altra versione Che sa volare Ma Vabbè ma non andare via Dai amico mio Ma torna Steph sta raggiungendo Il pianeta a Marte Ha detto che i consolini Non sono degni di guardarlo Se ne va Eh sì Aerobrine Ma scende Oh 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 Sto tornando indietro a pestarti Ma che vuole Ma mi sa che lui Se ne va Tranquillo Si fai i fatti suoi Secondo me Lo lasciamo stare Sì 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 Ok L'ultimo è il più bello Ok vai Non lo devi affrontare Lo devi guardare Ok Credo Non credo che ti picchi Lui è l'Aerobrine Eh no invece picchia Cos'era? L'Aerobrine Bruller Cosa? L'Aerobrine Bruller Quello che costruisce Sì teoricamente Se noi Ne mettiamo in giro Loro dovrebbero iniziare A costruire Quelle cose strane Che noi vedevamo Quelle trapole infernali Di lava Sì E anche quelle lettere Sai che Mi sa che senza Fare le vocazioni Loro Oh mio dio Oh Questo ha bucato Ma questi sono pazzi Guarda Ha rifatto la O Sì 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 Confermo 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 Sono loro i pazzi Qua hanno fatto una O Qui ci sono delle Delle Rack Che bruciano Come un rituale Qua c'è la lava Dentro un vetro Che non ha senso Cactus In mezzo A una pianura Sono pazzi Va bene Va bene Comunque mi sembra Che facciano una costruzione E spariscono Sì Ho notato Quindi se tu fai l'evento Iniziano a sponarne All'infinito E iniziano a costruire Tutto il mondo Mentre Se tu li evochi Così a mano Fanno una singola costruzione Ognuno E poi se ne vanno Esatto esatto Posso vedere Un altro po' cosa fanno Vediamo Sinceramente sono i miei preferiti Sono davvero figli Sì un po' inquietanti Inquietantissimi Inquietantissimi Però Fanno delle cose davvero belle Io sto Ancora non sto guardando Perché ne sto evocando tantissimi Sono curioso Di cosa tutto possono fare Stanno facendo le lettere No ma fanno solo L'H L'E L'O Non sono le altre lettere Eh Oh Cosa vogliono dire Secondo te H O E E O Sì è vero Una casetta Aspetta un'altra casetta Hanno fatto una casetta Non la conosciamo questa Questa è nuova Questa è nuova C'è un bottone Ah Poi ti esplode E ci rimane malissimo Sono sempre dei burloni Eh sì Un'altra casetta Un'altra ancora No le dobbiamo provare tutte E noi le dobbiamo provare tutte per forza oggi Che c'è nella cesta È invisibile No no C'è poi Ma è strana Fa un effetto strano Perché al contrario No Vedi che qua c'è un blocco invisibile Ma po' Pratic Praticamente La cesta è qua Dove sto guardando Non più qui Ok E qui in realtà Non Era una trappola di lava Steph Sì Un'altra Oh mamma mia Sono dei burloni Comunque c'è da dire Che sono molto belle le trappole Molto creative Sì 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 Infatti Perché comunque ci sto sempre cascando E non me le aspetto Fanno un ottimo lavoro E non me le aspetto